Il rapper Fedez si è eclissato dai riflettori e dai social, ma sembra che dietro la sua sparizione ci sia qualcosa di più di una semplice pausa. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che il cantante sta frequentando in segreto una donna, diversamente dai suoi flirt estivi. Si tratta di una relazione seria, non solo per apparire in copertina. Nel frattempo, il gossip su Chiara Ferragni e il CEO di Golden Goose, Silvio Campara, continua a tenere banco. Si dice che lei sia pazza di lui, ma che lui stia frenando l'entusiasmo a causa della sua recente separazione. Entrambi non hanno smentito le voci, il che potrebbe confermare la veridicità della loro relazione. Resta da vedere se Fedez tornerà presto sui social o se continuerà a godersi la sua storia d'amore lontano dai riflettori. Grazie a tutti.